PUC, piano urbanistico comunale, il famoso piano regolatore che i commissari hanno già redatto in via preliminare e nella loro bozza vi era scritto Vani Zero, significa che Marano non ha più bisogno di cementificazione. Ebbene, questa bozza di PUC dopo qualche giorno, non so, per mano di chi, poi se andremo noi lo andremo a scoprire, esce fuori che in questa bozza vi è scritto completamento della lottizzazione C e D. E' pazzesco! Io, se sarò il sindaco, non permetterò mai, mai e poi mai, che a Marano si continua a cementificare il PUC, il piano urbanistico comunale per noi deve essere fatto da aria verde, da centri sportivi, da centri creativi, da scuole perché è vergognoso che frazioni come San Rocco, come San Marco, Castelbervedere, Torre e Cavaccio non hanno un presidio di cultura, non hanno una scuola. E allora, quando io dico che le amministrazioni che in questi anni si sono susseguite alla guida di questa città, cosa hanno fatto? Perché oggi si offendono quando io dico che la sinistra è stata la parte più scellerata di questo paese?